Buongiorno a tutti, mi unisco al nostro Presidente, al nostro CEO Sport Giuseppe Marotta nel darvi il benvenuto qui oggi e ringraziarvi per la vostra partecipazione a questa Assemblea che si porterà all'approvazione del bilancio per la stagione 2019-2020. La strada impostata da Suning verso la sostenibilità economico-finanziaria del Club ha già dimostrato la sua efficacia. Il nostro fatturato è in crescita dal 2016. Nel 2019 abbiamo raggiunto il grande obiettivo dell'uscita dal settlement agreement con la UEFA. Abbiamo visto un'evoluzione del nostro brand di riflesso della nostra appetibilità commerciale, sostenuti da un incremento della fidelizzazione della nostra fanbase, testimoniati dai risultati del ticketing e dall'incremento dei dati sulle nostre piattaforme digital. Come stiamo per vedere insieme nel dettaglio, questa è stata una stagione del tutto anomala, segnata dall'arrivo della pandemia, i cui effetti sono chiari sul bilancio, che ci apprestiamo ad approvare e questi effetti si prolungheranno sulla stagione in corso. L'esercizio chiuso al 30 giugno 2020 è stato caratterizzato da due fasi ben distinte. Nel primo semestre dal succedersi di nuove strategie concentrate da una parte, come spiegato prima da Giuseppe Marotta, sull'introduzione di una mentalità forte improntata alla performance dei giocatori e la valorizzazione anche in termini economici del settore giovanile. Dall'altra parte, in ottica di performance finanziaria, sulla generazione di nuovi ricavi e redditività attraverso la crescita commerciale, attuata mediante la costruzione di un piano commerciale internazionale sulla base dell'utilizzo del nostro brand. Un marchio dall'appeal globale, nonché sull'efficientamento economico-finanziario, con un focus particolare sul monitoraggio dei costi, della gestione del capitale circolante, degli investimenti e della liquidità. L'inizio del 2020 è stato invece contrassegnato dalla diffusione a livello mondiale della pandemia da Covid-19, che ha causato una crisi globale con gravi ripercussioni sanitarie, sociali ed economiche. La diffusione della pandemia ha rappresentato e rappresenta per il settore sportivo, in particolare il calcio e per il nostro gruppo, un evento rilevante con impatti significativi sulla situazione finanziaria e patrimoniale del gruppo stesso. Un trend arreddituale negativo che ci si aspetta sia riconfermato in futuro e da un fabbisogno finanziario che è prevedibile si acuisca nei prossimi mesi. L'imposizione di misure preventive e di salvaguardia dirette al suo contenimento ha determinato la sospensione delle competizioni nazionali ed internazionali da marzo a giugno 2020 e del prolungamento della stazione portiva 2019-20 sino al 31 agosto 2020 in maniera tale da poter garantire il completamento delle competizioni stesse assegnando i vari titoli sportivi. Tale prolungamento ha determinato un differimento contabile dei ricavi da diritti televisivi e da sponsorizzazioni per circa 51 milioni di euro e di costi del personale della prima squadra per circa 19 milioni di euro. Le misure restrittive hanno inoltre impedito di disputare le partite a porte aperte determinando per il club una riduzione degli introiti da gare e il rimborso pro quota degli abbonamenti e dei biglietti già venduti in parte mitigato dall'attivazione di coperture assicurative. Alla luce di quanto anticipato, l'esercizio ha visto diminuire i ricavi di circa 45 milioni di euro con il dato consolidato che si attesta a quota 372,4 milioni con un EBITDA pari a 14,5 milioni di euro e una perdita di esercizio a quota 102,4 milioni impeggioramento di 54 milioni rispetto al risultato di esercizio del 2018-19. Come detto, lo scostamento tra la data di chiusura del bilancio e la data di conclusione della stagione sportiva ha creato un effetto di differimento contabile di 51 milioni di euro. Potete quindi notare che il fatturato generato dall'Inter nella stagione 19-20 escludendo il differimento risulta essere in crescita del 2% rispetto alla stagione precedente raggiungendo i 423,7 milioni di euro. Se stagione sportiva e danno fiscale fossero stati coincidenti come avviene di norma alla stesura dei nostri bilanci la perdita di esercizio per la stagione scorsa si sarebbe fermata a meno 70,7 milioni di euro con un peggioramento rispetto all'esercizio precedente di circa 22,3 milioni di euro. L'EBITDA risulta in calo dai 105,2 milioni della scorsa stagione ai 46 milioni di questa stagione al netto del differimento. Questo è dovuto agli investimenti messi in campo dal club per incrementare la competitività sportiva e parallelamente al mancato rinnovo di alcuni contratti di sponsorizzazione internazionale. Per la quinta stagione consecutiva il pubblico interista di San Siro ha dimostrato di non avere pari in Italia. Quasi 800.000 spettatori hanno assistito alle nostre gare caselinghe in solo 12 partite giocate a porte aperte con una media di 65.800 tifosi per gara record stagionale di Serie A e dato in crescita del più 7% rispetto alla stagione precedente. Il brand nero-azzurro si è nuovamente confermato nella top 15 dei brand calcistici con più valore al mondo avendo scalato ben 15 posizioni dal 2016 con una crescita di oltre il 235% in 5 anni. Inoltre la classifica mondiale dei 50 brand sportivi più commerciali al mondo stilata da SportsPro quello nell'azzurro attualmente il ventesimo brand sportivo più commerciabile al mondo ed il settimo tra i club calcistici. A portare all'interno del mondo inter anche i tifosi più lontani è sempre più la Media House un'hub che ha creato contenuti per 38 milioni di follower al 30 giugno raggiungendo nel mese di novembre già i 43 milioni di follower cresciuti del 72% rispetto alla stagione 2018-19 le visualizzazioni video sono cresciuti del 48% le interazioni hanno registrato uno straordinario più 250% rispetto al 2018-19 da sottolineare infine la performance nel nostro sito inter.it che ha registrato il record di 56 milioni di pagine visualizzate nell'anno inoltre secondo il Football Club Evaluation Report 2020 di KPMG siamo risultati esseri i numeri 1 in Europa per la crescita percentuale del numero di followers con uno straordinario 232% dal 2016 per quanto riguarda i progetti infrastrutturali sono continuati per tutta la scorsa stagione e continuano anche in quella in corso gli investimenti in infrastrutture da parte del Club progette chiave per il nostro futuro nel corso della scorsa stagione è stata completata la nuova Club House del Suning Training Center di Appiano un nuovo edificio realizzato secondo standard di elevata qualità e di grande rispetto per il territorio in cui si inserisce e che esprime al suo interno tutti i valori dello spirito nero-azzurro permettendo ai nostri giocatori di concentrarsi al meglio si è inaugurato a settembre di quest'anno il nuovo Suning Youth Center che ospita ad oggi il nostro Inter College una scuola di un convitto dedicato ai nostri ragazzi e ragazze che provengono da altre regioni italiane e o dall'estero saranno terminati tra poco anche i lavori degli uffici per il personale Inter il progetto più importante tra questi è quello per la realizzazione del nuovo distretto di Sport and Entertainment a San Siro dove si svolgerà il nuovo stadio dei due club di Milano ora vi facciamo vedere un video relativo alla nostra Club House di Appiano in nostro mondo dettagli rendono la differenza in nostro mondo i sogni sono importanti la forma che usate il space e move between le line è importante in nostro mondo è essenziale sapere chi sei e dove vengono e dove vengono focus sui il presente e plan per il futuro tutto ciò che facciamo in nostro mondo ha un preciso target getting stronger more united and better on the pitch because the pitch is our horizon always everywhere together Inter Club House a new space for our world Chiaramente questa difficile congiuntura economica sta facendo capire a tutti noi come questo progetto sarà di importanza ancora più cruciale per il futuro dei club che hanno necessità di sviluppare nuovi stream di fatturato anche il ruolo che questo progetto potrà avere per la città e per i cittadini e i nostri tifosi l'area di San Siro ne rinascerebbe completamente rinnovata Green a misura d'uomo attiva 365 giorni l'anno e garantirebbe circa 3500 posti di lavoro per quanto riguarda gli obiettivi 2020 e 2021 gli obiettivi che il club ha prefissato per la prossima stagione devono necessariamente tenere in considerazione gli effetti della pandemia tuttora in corso sia sullo scenario economico generale che più direttamente sulla industria del calcio il permanere nella crisi sanitaria acquisisce il clima di incertezza economico finanziaria e sportiva mentre le previsioni economiche su scala mondiale e per il nostro settore includono scenari di significativo deterioramento della congiuntura la contrazione economica potrà avere un impatto rilevante per il nostro club impegnato in una fase espansiva di investimenti sportivi e non per quanto riguarda la gestione economica del club ci poniamo come obiettivo il consolidamento del livello del fatturato mentre la nostra priorità sarà garantire la continuità del business e proteggere il profilo economico finanziario a sostegno dell'obiettivo economico si pone il nostro percorso di posizionamento globale del brand e di espansione del suo valore che ci permetterà di raggiungere i livelli più alti di commerciabilità del nostro marchio e di poter sfruttare più ampie possibilità commerciali continueremo con il massimo impegno sull'iter approvativo del nuovo distretto di San Siro che rimane una priorità per il club e la possibile identificazione di un'area per il nuovo centro sportivo del settore giovanile di un'area